Riprendiamo la nostra diretta, questa mattina vogliamo parlare di una importante iniziativa sociale volta a contrastare la povertà energetica e per questo motivo voglio dare il benvenuto al vicepresidente della Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo dei Paoli, il dottor Marco Guercio. Buongiorno e bentrovato dottor Guercio, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora dottor Guercio, prima di iniziare la nostra chiacchierata vorrei dare qualche numero in maniera tale da inquadrare bene la tematica di cui ci stiamo occupando. Il fenomeno della povertà energetica è un fenomeno che tocca in varia misura il 64% degli italiani, per oltre il 25% permane la preoccupazione di non riuscire a pagare le bollette nonostante uno scenario di cambiamento dei prezzi decisamente in miglioramento nell'ultimo periodo e poi ancora il 25% degli italiani ritiene che nel prossimo anno, nel 2024, le bollette aumenteranno ulteriormente di oltre il 30%. In tutto questo numero così preoccupante di dati che abbiamo dato emerge dunque il fenomeno della povertà energetica e per questo motivo il progetto Energia in Periferia vuole in qualche maniera contrastare questa che è una realtà che tocchiamo con mano davvero quotidianamente. Allora dottor Guercio le chiederei di cosa si tratta, cosa si occupa nello specifico il progetto Energia in Periferia? Allora il progetto Energia in Periferia nasce da un'idea della fondazione Banco dell'Energia Onlus che è una fondazione che raccoglie i principali player del profit e produttore di energia e di New Plenitude, ma anche A2A, Edison e anche associazioni di volontariato come la Federazione Nazionale di San Cristiano di San Vincenzo de Paoli, il Banco Alimentare e altre aziende del profit e altre associazioni del profit. L'idea che cos'è? È di supportare in particolare nelle grandi città, nelle metropole e soprattutto nelle zone più feriche che sono le zone che raccolgono il maggior numero di famiglie e altre città, supportare da un lato le spese energetiche e dall'altro istituire dei percorsi di accompagnamento su un uso più consapevole e dunque abbiamo citato la Società di San Vincenzo de Paoli, qual è dunque il ruolo che questa federazione ha assunto nel combattere la povertà energetica che sta assegnando tante famiglie? All'interno di questo progetto la Federazione Nazionale di San Vincenzo de Paoli ha il compito di affiancare le famiglie perché noi da sempre accompagniamo le famiglie in quelle che sono le loro necessità, sia le prime quelle del sostegno economico giusto per arrivare alla fine del mese, sostegno alimentare con la donazione di beni ma anche un accompagnamento che noi facciamo. All'interno del progetto Energia in Periferia il compito della Società di San Vincenzo de Paoli è quello di selezionare e individuare le famiglie che siano in grado di fare un percorso, non soltanto per pagargli quelle che sono le bollette grazie ai finanziamenti che arrivano dagli enti che partecipano alla fondazione ma soprattutto fare questo percorso di accompagnamento per un uso più consapevole. Lei ha parlato appunto di accompagnamento a questo progetto come abbiamo visto anche dal sito internet che la nostra regia ha prontamente mandato in onda, è un progetto che prevede anche degli incontri formativi che consentiranno dunque alle famiglie, alle persone coinvolte di approfondire vari aspetti legati anche alla vulnerabilità, alla povertà energetica in maniera tale da far acquisire alle persone una maggiore consapevolezza nei consumi e fornendo anche degli strumenti per ridurli. Quello che le vorrei chiedere allora è da quali presupposti deve partire questa consapevolezza la consapevolezza che siamo in un mondo che sta bruciando davvero tanta energia potremmo semplificare in questo modo e come ci si può convertire anche ad uno stile di vita ecosostenibile che poi in qualche maniera vada ad impattare anche nei portafogli delle famiglie. Allora io credo che la consapevolezza debba nascere prima che dal costo, dal fatto che sia l'energia ma anche l'acqua, cioè le risorse che noi abbiamo non sono risorse infinite. Allora partendo da questo presupposto l'uso dell'energia ma senza cambiare più tanto le nostre azioni può diventare un uso consapevole. Il percorso di affiancamento che noi facciamo passa attraverso sia una lettura più attenta della bolletta elettrica con quelle che sono le fasce a minor costo di quello che è l'uso dell'energia ma anche il formare le famiglie su quelle piccole abitudini che i nostri nonni ci raccontavano da lo spegnere la luce quando non sei necessariamente all'interno di una stanza piuttosto che usare gli elettrodomestici a pieno carico piuttosto che a una temperatura sparsa. Questi piccoli accorgimenti che però in un uso un pochettino più consapevole di quelle che sono le risorse noi ci aspettiamo che all'interno di questo progetto di comunità nazionali possano portare a delle riduzioni dei costi da un minimo del 10% a quello che potremmo prendere. Voglio citare alcune delle città in cui questo progetto è già attivo operativo Milano, Roma, Reggio Calabria, in Umbria e in ultimo questo format è stato anche portato a Napoli e Torino dunque potremmo dire che l'intera Italia è abbracciata grazie anche ovviamente come abbiamo avuto modo di capire alla società di San Vincenzo dei Paoli. Dunque l'ultima domanda d'Ortor Guercio parlando anche delle tante attività perché ovviamente le attività della società non si limitano solamente a questo grave problema della povertà energetica ma ci sono anche numerosi progetti che in qualche maniera contraddistinguono la vostra attività. Le chiederei di raccontarci quali sono quelli più significativi. Allora noi da sempre entriamo nelle famiglie ma fisicamente andiamo a trovare le persone nelle loro case e li accompagniamo in un percorso che rispondendo nell'immediato a dei bisogni con un pacco vivri piuttosto che un pagamento della bolletta, piuttosto che un pagamento di una quota parte dell'affitto quindi rispondendo a dei bisogni immediati cerca poi di fatto quali sono le cause e di solito sono cause individuali che portano quella famiglia momentaneamente con altri bisogni. Ad alcune non si può fare null'altro che continuare un accompagnamento di tempo e lì lavoriamo sull'elemento relazionale, ad altre che magari hanno possibilità e potenzialità in più cerchiamo di affancarli in un percorso di rientro nel mondo del lavoro, percorso di formazione specifica e quant'altro. Questo nelle condizioni un pochettino più favorevole ci porta in un percorso di due o tre anni a far sì che la famiglia possa tranquillamente uscire dallo stato del bisogno e rientrare in quello che sono lo stato di vita, chiamiamolo normale. Parlare di normalità è un po' sempre molto giusto. Ci sono poi di fatto altri progetti specifici su scala nazionale che sono dormitori, mense e quant'altro ma direi che quello che ci connota è proprio la visita alle famiglie. Bene, allora io chiederei alla regia per chiudere di far rivedere il sito internet del progetto Energia in periferia in maniera tale che chi fosse interessato può tranquillamente andare a reperire lì tutte le informazioni così come anche il sito internet Eccolo Grazie, il sito internet della società di San Vincenzo De Paoli in maniera tale che abbiamo fornito il quadro completo della situazione. Dottor Guercio, io la ringrazio di cuore per essere stato con noi e speriamo di risentirci presto anche per parlare in maniera un po' più approfondita degli altri progetti che la società di San Vincenzo De Paoli porta avanti davvero con abnegazione. Grazie, grazie di cuore. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.